Già stamane l'amministrazione comunale di Trapani, per tramite del personale dell'azienda Trasporti e Mobilità ATM, ha provveduto a ricollocare i paletti e le catene che chiudono Piazza Vittorio Emanuele. Ieri i paletti erano stati divelti da un'auto alla cui guida in stato di ebrezza c'era un uomo di circa 30 anni che nel pomeriggio ha seminato il panico in città mettendo in pericolo la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. In Piazza Vittorio Emanuele, nella sua folle corsa, l'uomo ha divelto i paletti sia all'ingresso, come si vede dai pezzi di paraurti per terra, sia all'uscita della piazza. L'uomo è stato denunciato dopo l'intervento di polizia e carabinieri che lo hanno rintracciato in via a Milaglio Staiti, dove sarà fermato al centro della carreggiata. È possibile che il Comune di Trapani avvierà una azione risarcitoria nei confronti dell'uomo al quale verrà richiesto di pagare i danni provocati.